a quelli che hanno migliorato il mondo, in cui vivemo anche noi, a coloro che sono stati capaci con un po' di musica e un po' di poesia a renderci sicuramente migliori, possiamo andare avanti per lungo tempo, Fabrizio D'Andrea, Lucio Battisti, Lucio D'Alma, Teresio Berto, Viva Graziani, Augusto D'Aolio, Gli Ante del Graffi, Gli Ante del Cellotti, possiamo andare avanti molto. Beh, tutte queste persone, che lo volete e che lo vogliate o no, ci hanno dato tantissimo e comunque sicuramente ci hanno migliorato, sicuramente noi che facciamo un po' di musica, beh a noi sì, a noi ne ha migliorato davvero tanto. Questa ti lascio una parola, Viva, perché siamo sicuri, comunque, perché è la pura verità che da qualche parte, nonostante questo periodo dove siamo tutti assorbiti dai telefonini, non ci guardiamo nemmeno più in faccia, nonostante questo, ancora oggi c'è tantissima gente che ci onora a sentire un po' di musica e qualcuno lassù è veramente contento, potete credere. Questa ti lascio una parola. Ti regalo delle scarpe, sono nuove, e vieni anche qualche libro, ma c'è. Grazie. 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 Grazie.